Musica Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi affronteremo un argomento scottante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La situazione di Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello VIP, nel vortice del gossip a causa delle presunte relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. La situazione si è complicata ulteriormente con l'audio inviato da Belen Rodriguez a Capodanno. Ma cosa c'è dietro a tutto questo? Scopriamolo insieme. Prima iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato ricordando che il tuo supporto per noi è molto importante. Grazie. Antonella rompe il silenzio e racconta la sua avversione dei fatti in un'intervista a fanpage.it. Come ha vissuto la sua inaspettata comparsa nel gossip? Quali sono le sue argomentazioni per smentire la voce che la riguardano? Oltre alla presunta relazione con De Martino, Antonella è stata coinvolta in voci riguardando un flirt con Antonino Spinalbese. Cosa c'è di vero in queste affermazioni? La situazione si ulteriormente intensificata poiché gli haters e questo gossip hanno travolto anche Guglielmo Vicario, il suo nuovo compagno. Antonella ha detto Ho deciso di procedere per via legali. Ho letto troppe sciocchezze sul mio conto. La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. L'unica cosa vera tra quelle circolate è il fatto che finalmente dopo sei mesi sto frequentando un'altra persona. Questo ragazzo poverino si è ritrovato a dover far fronte a tag, messaggi, di tutto. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti senza motivo. Antonino l'ho visto solo in amicizia, ma non c'è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro. Mi sono stati attribuiti numerosi flirt, ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo o Donna Maria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake. E in merito al presunto flirt con Stefano De Martino, la fior delisi ha chiarito. Stefano De Martino l'ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Benet Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi, ma non è accaduto. La storia della notte di passione con Spina Albese sarebbe stata completamente inventata. Antonino l'ho visto solo in amicizia perché siamo davvero amici. Mi dispiace che tutto questo caos sia scoppiato proprio nel periodo in cui sto sentendo seriamente una persona. Mi interessa, ci piacciamo tanto, a vicenda e spero non si allontani. Sono diventata bersaglio di etere che mi attribuiscono qualsiasi cosa. Adesso basta, ho deciso di denunciare. In questo video abbiamo cercato di fare chiarezza sulla vicenda di Antonella Fiordelisi esplorando la sua versione dei fatti e cercando di capire cosa si nasconde dietro alle voci e alle critiche. Lasciate un commento con la vostra opinione e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime news dal mondo del gossip. Grazie per essere sempre qui con noi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!